Allora, grazie a tutti. Anche questa lezione, come le precedenti, verrà registrata e sarà possibile poi vederle sul sito di Transform Italia. Grazie ancora a tutti. Vi chiedo di chiudere i microfoni in modo da non parlare sopra le persone che stanno in questo momento parlando. Grazie ancora, Piero. A te la parola. Buonasera e grazie a Elena Gagliasso che ha accettato con entusiasmo di essere con noi questa sera. e di parlarci di un tema che è un po' inconsueto e poco frequentato dal grande pubblico, che naturalmente purtroppo è ristretto ad un ambito limitato di studioso, ma è, come potremmo vedere, di grande rilevanza. Per l'appunto, questa sera Elena Gagliasso mostrerà i legami tra il riduzionismo scientifico e i problemi dell'ambiente. Io dico alcune cose, intanto, come al solito, sul profilo di questa studiosa, ricordando che ha insegnato filosofia e scienze del vivente a Roma, a Roma, all'Università della Sapienza e all'Università Orientale di Napoli. Attualmente docente di filosofia, ecologia e sintesi estesa al master in epistemologia, etologia, etica ambientale dell'Università di Cassino, tanto per non farsi mancare nulla, e naturalmente ha un curriculum scientifico di grande portata. Ricordo, prima di ricordare alcune sue opere, le sue attività, diciamo, di carattere istituzionale e scientifico. È presente nel bordo della rivista di storia della scienza, ha fondato ed è stato membro del Comitato Scientifico di Sofia, Materiale di Filosofia e Cultura delle Donne, fa parte del Comitato Scientifico di Scienza e Filosofia di Testo e Senso, di Umana Mente, della rivista Riflessione Sistemica, eccetera, eccetera. Non sto a scordirvi con, diciamo, la vastità dei luoghi istituzionali, anche a livello internazionale, in cui Elena è presente. È autrice di numerassissimi articoli e di quattro libri. Voglio ricordare prima di menzionare molto rapidamente, ma giusto senza la pretesa di essere esaustivo, per darvi l'idea, diciamo, degli interessi prevalenti delle sue ricerche. Vi ricorderò, naturalmente, i libri degli ultimi due o tre anni. È una cosa che mi piace ricordare, perché questo dà una caratterizzazione civile e politica, in senso alto alla Elena, nel 2009, insieme a Rita Levi Montalcini, a Bugatti e Allerta, ha pubblicato un manifesto degli scienziati antirazzisti. Allora, qualche, diciamo, titolo interessante da selezionare in una vasta congeglie di pubblicazioni. Quando lo spazio diventa ambiente. Implicazioni categoriali della crisi ecologica. Ioffrida cura di scienza, tecnica e capitalismo. Una prospettiva ecologica. Officine filosofiche, novembre 2020. Tra fideismo e diffidenza. La cittadinanza scientifica sotto scacco pandemico. Questo in piena pandemia. Pubblicata in Micromega al Maracco delle Scienze. Un altro titolo, le conseguenze della guerra su crisi climatica e ricerca scientifica. Centro per la riforma dello Stato, 28 aprile 2022. Ambienti e migrazione umane a cura di Elena Gagliassa, Giannucci e Ossilio, Franco Agili, 2022. Arriviamo a 2023. Generatività da pratiche e stili di pensiero parziale. A cura di sapegno, memorie bussole e cambiamenti. Carocci, appunto, 2023. Mi fermo cercando di introdurre brevissimamente e con le parole di un non addetto ai lavori cercherò di dire qualcosa sul tema del riduzionismo. Poi, naturalmente, Elena da par sua ci tratterà profondamente l'argomento. Allora, che cos'è il riduzionismo? Naturalmente è l'esemplificazione della complessità ridotta a elementi, diciamo, di interpretazione parziale. Si riduce una realtà intrecciata, complessa, complicata agli elementi semplici che consentono poi l'applicabilità, la traducibilità della scoperta scientifica in termini tecnici o tecnologici, operativi, strumentali. Allora, per non farla lunga, ma per parlare di cose che in qualche modo conosco, io posso ricordarvi un caso esemplare di riduzionismo riguarda la fertilità del suolo. Come sapete, Justus von Liebig, insieme ad altri scienziati, per la verità, è l'inventore dei concimi chimici. Liebig scoprì che, diciamo, le piante alla fin fine si nutrono attraverso i capillari direttamente succhiando i sali minerali disciolti grazie all'acqua nella terra, nel suolo. E allora, avendo compreso questo e quindi, diciamo, togliendo di mezzo il ruolo dell'humus nel nutrimento e anche nella salute della pianta, pensò che, diciamo, fornendo le piante direttamente in abbondanza di questi sali minerali che poi sono essenzialmente il fosforo, il potassio e l'azoto, la pianta si sarebbe sviluppata. E infatti così avvenne. Come sapete, i concimi chimici sono alla base della rivoluzione produttiva in agricoltura nel corso dell'età contemporanea. Hanno determinato, diciamo, un passaggio d'epoca per ciò che riguarda la produzione degli alimenti umani. Ecco, però, questo è, diciamo, il vizio riduzionistico di questa impostazione e di questa applicazione tecnica e strumentale si è messa a distanza di decenni perché i concimi chimici non sono, diciamo, sufficienti a far crescere in maniera sana la pianta perché la pianta ha bisogno di tutte le componenti complessi che formano l'ecosistema suolo dove vivono milioni di microorganismi che svolgono la loro funzione di fertilità. Nello stesso tempo, il suolo, con il passare del tempo, si impoverisce. I sali minerali uccidono la vita, uccidono, diciamo, l'assetto biologico del suolo e portano al termine della fertilità, alla distruzione della fertilità. Vedete, vi do un dato che naturalmente sono di questi dati scientifici generali da prendere con un fondo di prudenza ma che sono altamente significativi. A livello mondiale si valuta che ogni anno si perdono tra i 10 e i 12 milioni di ettari di suolo fertile per effetto della concimazione chimica. Naturalmente bisogna aggiungersi anche da alcuni decenni l'uso dei diservanti sintetici, naturalmente i pesticidi e così via. Il terreno muore. Quindi, vedete, una scoperta scientifica che ha avuto successo nella sua applicazione tecnologica poi rivela la sua fallaccia nel corso del tempo. Ecco, io mi fermo qui spero di avervi introdotto con un po', diciamo, di esemplificazione e di chiarezza a questo tema e quindi chiedo amabilmente alla nostra Elena di cominciare la sua lezione. Grazie, Piero. Mi sentite tutti? Sì? Ok. Sì, sì, sì. Grazie, Piero. Grazie all'intero Transform. Grazie a chi mi sta ascoltando in questo momento e speriamo di riuscire a mettere a fuoco alcune delle questioni che sono, diciamo, sul crocevia di questi due temi che io ho voluto accostare. Da un lato il riduzionismo che di per sé è una lettura anche terminologicamente intesa che appartiene agli epistemologi, alla filosofia della scienza molto più che non a chi fa scienza nel senso che lo scienziato non è che sta a riflettere al... il mestiere per la prima parte del ventesimo secolo su questa tematica come una... per analizzare in realtà il modo di lavorare degli scienziati intendendo come modo di lavorare il metodo e intendendo come metodo una serie di criteri e di procedure che in linea di massima devono essere standard cioè unificate per tutte le discipline non solo ma questo tema del riduzionismo che come giustamente già accennava Piero Bevilacqua è un tema che ha a che fare con il ridurre 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 da situazioni complicate ingarbugliate i fili della loro semplicità secondo un criterio del rasoglio di Ockham per cui la spiegazione migliore deve essere la spiegazione più semplice ecco il riduzionismo ha comunque diverse facce diverse caratteristiche direi che la prima grande divisione che noi troviamo è quella che ha a che fare con analizzare e scomporre i linguaggi le teorie e analizzare scomporre e poi riassemblare la realtà cioè una dimensione diciamo metodologica e una dimensione pratica ontologica va bene quello di cui parlava prima Piero era la dimensione pratica va bene allora il non solo questa è una prima divisione una seconda divisione che mi preme è quella che permette di distinguere su questo insisteremo molto quando ci avviciniamo alla questione del cambiamento climatico che permette di distinguere il piano denotativo come metodo cioè usare il riduzionismo come uno strumento come un cacciavite nella cassetta degli attrezzi uno tra i tanti oppure usarlo quindi su un piano più connotativo come rappresentante di valori di un modo di vedere il mondo ora quello che è interessante è che queste due caratteristiche e cioè il riduzionismo come strumento e il riduzionismo come valore epocale potremmo dire sono intrecciate vanno spesso insieme però non necessariamente producono gli stessi effetti anzi non producono proprio gli stessi effetti perché considerare il riduzionismo come una visione del mondo significa stare all'interno della diciamo di un frame che noi abbiamo ereditato dal dal seicento in poi che permette di leggere la realtà del mondo come una realtà sulla quale intervenendo con dissezioni del reale e analiticità dei linguaggi e del pensiero noi arriviamo a possedere la certezza di quello con cui ci stiamo confrontando per aprire una delle tante piccole parentesi che apriremo noi sappiamo che l'impostazione di fondo di questo modo di pensare è un'impostazione che già alle origini lega insieme l'aspetto analitico e l'aspetto pragmatico se noi pensiamo al fatto che nel 1628 compare la nuova atlantide scusate nel 1626 compare nuova atlantide nel 1628 la nuova atlantide di bacone e nel 1628 cartesio pubblica le regole per un ragionamento ben condotto noi abbiamo le due facce del riduzionismo cioè da un lato quello cartesiano che è un riduzionismo metodologico metodologico concettuale e dall'altra il riduzionismo balconiano che è un riduzionismo pragmatico per poter effettuare quell'operazione fondamentale che è quella poi che si effettua anche in agricoltura cioè io suddivido la realtà non in particelle ma in particelle diciamo concrete per poi però poterla rimontare e realizzare il nuovo allora questi due momenti sono due momenti che non a caso sono quasi poi il corso del metodo lo farà uscire nel 1637 e quest'opera baconiana comparirà postuma nel senso che noi di Bacone conosciamo il nuovo Morganum la nuova Atlantide arriva dopo che Bacone stesso è morto però sono ideate nello stesso arco di tempo e sono ideate nello stesso arco di tempo non soltanto per queste coincidenze di cui la storia è ricchissima ma anche perché le coincidenze hanno spesso delle concause che non sono le concause soltanto individuali come sappiamo bene ma che sono delle concause epocali e allora mi voglio un attimo riferire facendo anche qui un piccolo passo indietro a quello che spesso si ricorda e cioè che in questi anni siamo già arrivati a una rivalutazione a un'importante rivalutazione che sta tra il 1400 e il 1700 del ruolo dei tecnici degli ingegneri di tutti quelle figure che fino al sedicesimo secolo erano considerate delle figure secondarie cioè l'intelletto aristotelico non apparteneva al lavoro delle mani non apparteneva a chi faceva le cose ecco il lavoro le funzioni del sapere tecnico i processi artificiali di alterazione trasformazione dell'ancura in un bellissimo libro che ha fatto storia di Paolo Rossi dello storico delle idee Paolo Rossi i filosofi e le macchine è stato considerato come il momento di incubazione di queste di questa attenzione e le ragioni sono delle ragioni economiche sono delle ragioni contestuali sono delle ragioni di trasformazione della produzione quindi non entriamo assolutamente in questo ampissimo discorso però lo teniamo presente lo teniamo presente perché se non non abbiamo in mente questo aspetto cioè queste valorizzazioni non riusciamo a cogliere perché dopo un po' di tempo questi modi di pensare e cioè la dissecazione del mondo naturale per ricostruirlo e per costruire anche l'innovazione non ci dimentichiamo di questi mondi cioè quando quando Bacone parla di quello che si potrà fare con questo metodo lo voglio leggere perché è bello nella Nuova Atlantide e Bacone dice quello che potremmo realizzare con questi metodi sarà il prolungamento della vita il rallentamento della vecchiaia la cura delle malattie considerate incurabili l'alterazione dell'aspetto l'aumento e l'esaltazione delle facoltà intellettuali versioni diverse di corpi in altri corpi la costruzione di nuove specie strumenti di distruzione di guerra e di avvelenamento la produzione di nuovi cibi a partire da sostanze oggi non utilizzate l'inganno dei sensi ora a parte che questo elenco che compare nella Nuova Atlantide nel 1626 io credo che per molti di noi può risuonare perché è una sorta di manifesto anticipatore visionario di molte delle cose che subiranno poi nel bene e nel male va bene è un romanzo chiameremmo oggi di fantascienza questo di di Bacomi però è la proiezione dei desideri epocali che esistono quindi il riduzionismo ha queste buone ragioni nel suo affermarsi e nel suo affermarsi ripeto come valore indicativo e denotativo di un'epoca contemporaneamente entrambe le forme sia il riduzionismo linguistico delle teorie degli enunciati e così via quello più cartesiano sia quello fattuale che smonta e rimonta la realtà molto rapidamente richiamano una serie di critiche e cioè le società che vengono a dovere moltissimo a queste pratiche colgono anche il cono d'ombra che si apre da un altro lato e quindi abbiamo tutta una serie di contrapposizioni contro il riduzionismo per esempio del meccanico il riduzionismo meccanicistico che fa riferimento sia alle macchine e gli automi dell'epoca sia anche fisica meccanica ecco delle opposizioni che vanno dal vitalismo quindi la natura non può essere toccata in questi modi la natura è dotata di una sua spinta vitale di suoi elementi di trascendenza e quindi le critiche che gran parte di questo vitalismo porta a quel riduzionismo sono delle critiche accettabili o meno ma che certamente funzionano da pungolo e quindi il riduzionismo da radicale via via nel corso di un secolo si fa più sofisticato integra al di là della spezzettamento delle parti anche i legami delle parti le relazioni delle parti e viene piano piano a trasformarsi in quello che viene chiamato il riduzionismo sofisticato che ha dei punti di contatto molti o stretti con quelle che verranno intese come teorie della complessità le teorie della complessità sono state diciamo nella seconda parte del secolo scorso il il grande contraltare del riduzionismo spesso un contraltare però che faceva i conti con un riduzionismo pregresso e cioè con il riduzionismo meccanico con il riduzionismo per esempio termodinamico e non con quelli che erano gli effettivi problemi del riduzionismo in quel tempo perché allora qual è il problema che il riduzionismo al di là di essere una visione che disseca la realtà o disseca il pensiero è anche una visione che crea delle gerarchie ideali tra le scienze per cui per poter fare questa operazione di dissezione se io lavoro per esempio in campo biologico o se lavoro in campo sociale devo ridurre i miei oggetti di interesse alla scienza che è immediatamente precedente e cioè da un punto di vista proprio materiale oggettuale anche teorico cioè la sociologia le scienze umane devono ridursi alla biologia la biologia a sua volta deve ridursi alla fisica e alla chimica prima e poi alla fisica ora queste riduzioni che sono tra teorie di discipline diverse anche queste diciamo hanno avuto una serie di diciamo seguiti un grande seguito grandi contrapposizioni da parte dei teorici della complessità però non sono diciamo quello che è stato diciamo più significativo come critica al riduzionismo perché tutto sommato erano qualche cosa che arrivava dall'esterno se noi andiamo invece a prendere la disciplina che più ha fatto attrito con questo modo di vedere la realtà noi incontriamo le discipline del mondo vivente e cioè dell'organismo dei gruppi organizzati della della fisiologia del rapporto tra gli organismi e gli ambienti ecco tutta questa dimensione che ha a che fare con il vivente non ha soltanto diciamo effettuato per un lungo periodo di tempo delle pratiche di tipo riduzionista cioè ridurre la biologia alla chimica e alla fisica ma ha operato anche con un altro livello di riduzionismo che è il riduzionismo infradisciplinare e cioè certe parti della biologia devono poter essere ridotte alle parti più riducibili e cioè per esempio l'evoluzione darwiniana deve essere ridotta alla genetica molecolare la biologia molecolare ha a sua volta delle possibilità di esplicazione che non sono ancora totali ma che senza dubbio potranno arrivare a spiegare i cambiamenti delle molecole anche con delle chiavi quantistiche ora vedete bene che questa diciamo serie di come dire scatole cinesi scatole cinesi però che hanno un'unica direzione dalla dalle spiegazioni che sono più diciamo complessive ma anche complesse come quelle che hanno che fare con i sistemi con gli ecosistemi o che hanno che fare con l'evoluzione a spiegazioni che sono più maneggiabili con il vantaggio che è stato sempre il vantaggio potentissimo di ogni l'evoluzione di promuovere la spiegazione in quanto offre una previsione quindi la spiegazione riduttiva mi permette di prevedere i fenomeni questo è diciamo spesso stato il diciamo il il criterio che ha permesso l'affermarsi in tutte le discipline ma perché diciamo risponde a una sorta di come lo vogliamo chiamare di paradigma più che scientifico paradigma della rassicurazione umana cioè io devo poter prevedere quello che accade domani quando una certa disciplina mi permette questo è chiaro che io do un maggior valore a questa disciplina quando una certa parte di una disciplina per esempio invece non mi permette questo e mi parla del caso della contingenza dell'aleatorietà è chiaro che io devo cercare di trovare delle soluzioni per riportare questa incertezza a qualche cosa che mi garantisce di poter prevedere i comportamenti diciamo che tutta la ricerca scientifica ma tutta la mitopoiesi se vogliamo nasce proprio da questa che io spesso ho chiamato paradigma di rassicurazione umana che sta alla radice dei vari paradigmi scientifici in qualche modo e nella operazione di trasformazione delle critiche del riduzionismo anche di questo riduzionismo inter infradisciplinare cioè dentro la biologia ci sono parti della biologia che criticano le forme di riduzionismo troppo hard e che sostengono il fatto che il mondo vivente essendo un mondo in cui agisce la complessità dei sistemi non può essere ridotto come si diceva una volta alla somma delle parti cioè il tutto non è la somma delle parti il tutto è dato da relazioni intrecci le realtà sono frutto di una co-costruzione reciproca tra le parti potremmo dire di una co-costruzione dialettica e reciproca tra le parti perché non c'è solo la costruzione c'è anche l'opposizione la sintesi tutta una serie di fenomeni ora quello che è interessante perlomeno che me mi ha sempre appassionato in questo caso è che le contrapposizioni tra queste linee di pensiero e quelle che si opponevano abbiamo citato prima il vitalismo ma poi al vitalismo si sostituisce per esempio l'organicismo l'olismo cioè il fatto che bisogna considerare la realtà come un tutto che la realtà deve essere osservata come un tutto e non si può aprire questo tutto andare a cogliere degli elementi che non che non permettono questa continua coesione delle parti pena la perdita di senso di un intero sistema ecco queste critiche che noi adesso spesso abbiamo considerato come critiche relativamente recenti nel senso della seconda parte del ventesimo secolo in realtà non soltanto avevano forme precedenti nei secoli precedenti ma per quanto riguarda la biologia in particolar modo i collegamenti tra parti della biologia e parti delle scienze esatte cioè la chimica la fisica la matematica la cristallografia erano un oggetto di studio molto interessante addirittura negli anni trenta c'è stato un gruppo di studiosi che era animato da appunto cristallografi biologi embriologi matematici che si riuniva tra gli anni trenta e le soglie della seconda guerra mondiale proprio a lavorare su quelli che avrebbero potuto essere dei modi di far funzionare la mente integrata per parlare del vivente che non fossero solo riduzionisti ecco in questo senso per esempio ci sono stati degli studi molto interessanti diciamo alcuni lavori di Don Araway di Pnina Abiram di Barbara Continenza che ci sente proprio in cui uno dei saggi che tratta questi questi tentativi di affrontare la biologia senza scadere in forme che sono semplicemente oristiche l'interdisciplinarità del sistema ecco questo gruppo si chiamava Theoretical Biology Club il saggio da Continenza nel 1987 era proprio titolato Theoretical Biology Club e la faccia del riduzionismo e autori importanti come Waddington come Nidam come John Bernal diciamo una parte che fu poi la left della biologia anglosassone lavorava proprio su questo crinale in cui si dovevano poter mantenere si doveva poter mantenere il rigore della ricerca le connessioni tra le discipline e tuttavia elaborare un concetto che fosse di organismo che fosse di che fosse non collegato soltanto alla dissezione ma al funzionamento complessivo quindi chimica delle proteine ma anche materialismo dialettico perché molti di questi autori erano autori che lavoravano con un'impronta in cui il vivente doveva essere considerato sia sulle sue basi materiali ma anche sulle dinamiche a tutti i livelli organici e esterni anche perché l'organismo era collocato in ambienti che via via veniva a modificare ora come dire queste opposizioni queste critiche queste critiche hanno avuto sempre un ruolo anche se si sono spesso trasformate nel corso del tempo nel corso di decine decine di secoli se prendiamo il vitalismo e il meccanicismo ma poi quando ci avviciniamo ai tempi nostri ci avviciniamo alla dimensione quasi contemporanea sono critiche che volta a volta assumono aspetti sempre più costruttivi il riduzionismo in quanto tale come visione del mondo come valore in sé perde diciamo visibilità perde pregio prestigio mettiamola così l'altro aspetto è che il riduzionismo in quanto tale come strumento da molte di queste critiche viene considerato come un elemento obsoleto cioè si tratta di lavorare solo con criteri che sono sistemici che sono olistici e spesso incorrendo in alcuni diciamo alcuni rischi alcuni scivoloni che non potevano neanche essere immaginati vi faccio solo un caso paradigmatico che è interessante molti di noi sanno che uno dei teorici più importanti di una visione organicista o lista per quello che riguarda il pianeta terra è stato James Lovelock con la sua teoria dell'ipotesi Gaia cioè l'ipotesi Gaia vede la pianeta terra come un grande mega organismo in equilibrio in equilibrio resiliente per cui qualsiasi diciamo insulto viene compensato a livello globale e questo è il modo di funzionare di quella che lui chiama non diciamo per sua invenzione ma catturandola da un grande studioso russo Vladimir Vernasky biosfera cioè Vernasky aveva impostato una spiegazione delle diverse superficie del pianeta come diverse sfere concentriche biosfera era l'ultima quella dotata di vita allora Loverock riprende in mano questo concetto di biosfera e lo rende come un concetto in cui è presente l'equilibrazione costante e cioè il pianeta compensa qualsiasi insulto è una forma di biocibernetica la sua l'equilibrio è omeostatico e Gaia si ripara sempre conosce una che lavorava sui simbionti batterici studia con lei che le alghe e i microorganismi fin dalle origini della vita producono CO2 e considera anche noi produciamo con l'estrazione fossile CO2 quindi proseguiamo questo lavoro incessante della terra di produrre CO2 ora quello che è interessante e questa è una cosa che è uscita in un saggio recente di una storica Lea Aronofsky su Clinical Inquiry nel 2021 quello che è interessante è che quando questa concezione viene pensata nel 1975 e cioè quattro anni prima che esca l'ipotesi Gaia come libro con l'eco enorme che ha avuto nel 75 questa ipotesi viene avanzata e lanciata dall'Obelop assieme a Sidney Hapton Sidney Hapton era uno dei più importanti level manager manager di livello della Shell e la Shell aveva finanziato molto intensamente queste ricerche e la Terra quindi è in equilibrio omeostatico noi con l'estrazione petrolifera produciamo nella sua utilizzazione successiva CO2 noi produciamo CO2 come i microorganismi quindi non c'è da essere preoccupati per danneggiamenti che l'estrazionismo possa portare a questo pianeta un'altra cosa interessante da ricordare è che queste teorie nascevano appena tre anni dopo l'uscita del famoso rapporto sui limiti dello sviluppo il rapporto Meadows che era stato elaborato dal Club di Roma nel quale erano già presenti molte preoccupazioni soprattutto di tipo demografico ma in cui rappresenta una impossibilità della car incapacity infinita cioè la crescita infinita era qualcosa che non si poteva avere perché vi ho portato questo esempio che a me sembra interessante perché diciamo anche le teorie della complessità se noi se noi le prendiamo come un sistema a sé stante completo e in contrapposizione col riduzionismo cioè come una visione del mondo come un ideale del sapere complessivo contengono contengono al loro interno degli aspetti che se non conosciuti non ci permettono di capire quanto entrambi siano sia le teorie della complessità sia il riduzionismo soprattutto quello passato tutto sommato abbastanza funzionali a quello che è il sistema politico produttivo di una determinata epoca cioè noi non possiamo pensare che la complessità in qual tale e soprattutto la complessità dell'equilibrio sia qualcosa che si svincola che ha una sua primato maggiore purezza maggiore fiducia le teorie della complessità hanno anche loro una grande storia cioè soprattutto le teorie dei ragionamenti sistemici quello che è interessante è che nell'ultimo periodo di tempo non sono più soltanto delle teorie all'equilibrio ma sono riuscite a fare un'operazione che all'inizio non esisteva e cioè integrare quando venivano lanciate parlo di Fombertalampi delle grandi teorie dei sistemi inserire la dimensione evoluzionistica inserire la dimensione evoluzionistica del vivente in una teoria dei sistemi è qualche cosa che tutto sommato non è non è di rottura del principio stesso di sistema ma ne toglie toglie a questo principio la sua potremmo dire indistruttibilità inaccessibilità alla trasformazione le teorie evolutive hanno come cuore centrale a partire da Darwin dal 1859 variazione e selezione la variazione significa il gioco del caso il gioco del caso che è sia le varie i cambiamenti ambientali massimi che poi selezioneranno altre specie e qualche cosa che coglie al suo interno la casualità totale e le teorie sistemiche la complessità su questo gioco del caso sono spesso state diciamo per certi versi simili quasi al riduzionismo nel senso che il criterio era quello della promessa di rassicurazione umana ora questa promessa di rassicurazione umana il problema è che non noi siamo in una fase storica in cui viene ampiamente disattesa la rassicurazione e allora quello con cui tu suggeriscimi Piero quando è il momento che mi devo fermare ma quello diciamo punto per avviarmi alla conclusione è che sì perché poi puoi approfondire singoli temi con il dibattito certamente certamente no voglio solo chiudere la raccomentazione sì esatto quello che mi preme è di considerare gli strumenti chiamiamoli così del riduzionismo anche quelli più rigorosi come delle come delle parti di un appunto come strumenti come ho detto strumenti e quindi non come visioni del mondo cioè una pratica parziale che va inserita come momento locale in visioni che invece sono più complesse di tipo sistemico di tipo evolutivo e così via quello che noi vediamo oggi per arrivare al tema delle delle crisi ambientali è che da un lato noi dovremmo siamo portati a ragionare ragioniamo sul clima la vita i viventi come una rete che va accolta nel suo darsi complessivo in cui se facciamo dei danni da una parte rispondono al famoso battito delle ali di una farfalla no danneggiamo una parte il danneggiamento si estende quindi la visione non è affatto più riduzionista però va tenuto presente che se noi possiamo dire queste cose se noi possiamo dirle con conoscenza di causa e perché siamo in qualche modo e se siamo allarmati di questi aspetti e se con questi aspetti allarmiamo le nostre governance le politiche costruiamo i protocolli e perché abbiamo in mano una crescita anche esponenziale di dati di misurazioni di modelli virtuali di prospezioni satellitari che sono uno dei prodotti banalmente di una scientificità anche molto classica e quindi con le sue componenti di tipo riduzionistiche e così via quelle che sarebbero piaciute a Bacone quelle che sarebbero piaciute anche a Cartesio quindi noi abbiamo una serie di procedimenti che sono procedimenti di insieme ma quello che avviene è che quello che è vincente oggi vincente da un punto di vista delle possibilità di approccio poi non c'è niente di vincente in questo momento per quello che vediamo ma insomma come possibilità e il modo di far funzionare le visioni più complesse come ricoperture tematiche non come visione di insieme ma come inseguimento di problemi singoli attraverso un convergere di molte discipline un ultimo esempio che l'osservatorio ha che regolarmente se uno vuole una sformazione ecco l'osservatorio artico recentemente ho visto che ha registrato un ritmo di ritiro critico degli acciai soprattutto nelle isole Svalbard molto forte e su questo noi lo sappiamo l'intensità con cui si sta sciogliendo il permafrost e i ghiacci dei poli è molto maggiore di quella con cui si sta riscaldando il resto del pianeta quindi gli acciai e oceani si riscaldano di più ma quello che è interessante è che da un punto di vista cognitivo scientifico è che questi studiosi hanno detto questi sono gli effetti diciamo sistemici per la vita per il pianeta per il sistema del del divenire diciamo ontologici avrebbe detto un filosofo il ghiacciaio che si scioglie fa sì che noi perdiamo informazioni sulla storia del clima e degli ambienti di ere estremamente remote quindi perdiamo una possibilità di accesso che come viene costruita questa possibilità di accesso quando gli acciai funzionano questo vale per gli oceani vale per un'infinale viene costruita con una serie di strumentazioni che noi abbiamo ereditato da scienze e tecniche che avevano alle loro basi delle forme anche di tipo riduttivo quello che è interessante è la domanda che poniamo a queste realtà per cui se io faccio un carotaggio posso usare tutta la strumentazione riduzionistica che avevo ma la mia domanda è una domanda di tipo storico che riguarda il passato che non riguarda soltanto una rassicurazione produttiva ma è una domanda che riguarda una post-dizione cosa avveniva nelle ere lontane riguardo ai diversi cambiamenti climatici a come funzionava il clima perdere questi strati di ghiaccio come sta avvenendo velocemente toglie alla conoscenza anche delle possibilità di osservazione e quindi di spiegazione allora questo era proprio per chiudere un esempio per come la crisi ecologica di quello che è lo stato vivente della terra perché ricordiamocelo sempre la crisi ecologica della terra in quanto pianeta non ha non presenta problemi tutta la massa vivente può morire la terra continua a girare non è quello il punto il cambiamento il cambiamento di biodiversità l'eutrofizzazione dei suoli tutte le cose con cui siamo con cui è iniziato anche Piero Villacqua è qualche cosa che riguarda il modo diciamo complessivo di stare al mondo di vedere la realtà e quindi di vederla attraverso visioni più ampie e collegamenti disciplinari e di usare le strumentazioni che sono invece delle strumentazioni anche estremamente fini estremamente modellizzate virtualizzate quantitative e così via ecco questo diciamo giusto per avere buttato un po' di carne al fuoco e poi adesso vediamo cioè la parte più importante di queste lezioni io me ne sono accorta anche ascoltando quelle precedenti è sempre un po' il dibattito Grazie Elena non è vero l'ultima cosa che hai detto la parte più importante è stata la tua lezione poi adesso vedremo il dibattito lezione veramente profonda condotta con grande maestria di chi possiede diciamo la tematica in maniera completa e straordinaria diciamolo pure allora anch'io ho capito un bel po' di cose e poi avrei da dire alcune cose di carattere storico ma naturalmente adesso lascio la parola ai nostri ospiti ma mi riferisco alla rivoluzione scientifica del XVII secolo no? perché prima c'è qualcosa che somiglia molto diciamo alle teorie della complessità cioè la scienza rinascimentale di Campanella di Telesio di Giordano Bruno chi vuole intervenire? Io Piero Pino vai par di capire intanto complimenti per la lezione che dà origine a molti interrogativi e apre questioni filosofiche di grande rilevanza e in effetti io su questo volevo intervenire in termini più generali par di capire anche se la mia trasmissione è stata un po' disturbata non so per ragioni mie del mio computer o dell'apparacchio trasmittente scusa no ci sono state delle fastidiose sincopi di audio purtroppo però brevi per fortuna allora ne abbiamo sofferto un po' tutti però mi par di capire che andando alla sintesi di quello che voglio chiedere alla professoressa è che l'alternativa al riduzionismo corrisponde alla rinuncia a comprendere i fenomeni nei loro termini più elementari e soprattutto all'incapacità di fare delle previsioni che è la cosa che da sempre interessa più l'uomo però e a questo punto io chiedo che relazione c'è che nesso c'è tra il riduzionismo e il determinismo e con tutte le implicazioni di un determinismo hard naturalmente questo comporta in termini filosofici più generali che non sto qui a descrivere perché sono evidentemente chiari a tutti grazie Elena meglio il botte risposta che accumulare almeno sì 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 grazie questo è una è proprio un punto molto molto importante perché i due elementi sono abbastanza fratelli il determinismo e il riduzionismo tuttavia nel caso del determinismo noi abbiamo o perlomeno mi sembra di poter dire che l'accento è spostato non tanto sulla operatività dello scomporre quanto sulla linearità delle forme di pensiero causa-effetto il determinismo è stato molto importante perché ha permesso di costruire delle lunghe catene causali cioè il principio di poter spiegare una realtà attraverso la determinazione di una due tre poche molte cause convergenti su questa realtà diciamo prima abbiamo parlato delle critiche dei problemi del riduzionismo le critiche e i problemi del determinismo sono legati a la direzionalità di questo ragionamento cioè a queste concatenazioni lineari no dirette sempre a diciamo un futuro in cui tu risali con esattezza alle cause passate quindi anche questo fa parte del paradigma di rassicurazione volendo il determinismo il problema è che quello che poi si osserva è che non funziona così cioè a partire da Barry Commoner il cerchio da chiudere per dire un testo che forse molti di voi hanno presente quello che avviene anche dal punto di vista del ragionamento sulla realtà è che si devono seguire degli anelli di ricorsività cioè quando Gregory Bateson parlava di una ecologia della mente a questo questo aveva in mente cioè che noi non possiamo concatenare cause e effette perché nel momento in cui si dà un effetto lui diceva a livello cibernetico c'è una retroazione sulle cause si creano delle bucle e quindi nel momento in cui rompe la cibernetica per esempio il determinismo è molto ridimensionato però la cibernetica a sua volta è una scienza guida dominante forte e quindi il riduzionismo cambia il suo ideale scientifico e passa dal meccanicismo all'informatica non so se ho risposto sì grazie posso? posso? Enzo Scandurra ciao Enzo ciao noi abbiamo avuto un comune maestro che è Marcello Scini insomma e quindi ci conosciamo da parecchio tempo no io vorrei fare una domanda un po' forse scorretta ecco nel senso nonostante la teoria della complessità appunto che ha come dire spodestato il vecchio riduzionismo nei sistemi sociali nei sistemi politici i media per esempio il linguaggio è rimasto a livelli di riduzionismo esasperato nel senso che come dire non c'è nessuna nessuna nessun dialogo insomma nessuna nessun dubbio nessuna nessuna reciprocità ecco il linguaggio è rimasto o diciamo i mezzi di comunicazione sono estremamente riduzionisti insomma io credo che questo ne ho parlato diverse volte credo non so se è corretto trasportare i sistemi diciamo scientifici sul piano dei sistemi umani dei sistemi sociali eccetera però voglio dire faccio lo stesso questa domanda grazie sì 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 ho capito quello che tu quello che tu vai osservando certamente io la sposto un pochino l'osservazione che tu fai perché a me sembra molto importante soprattutto in questo momento avere una certa come posso dire perlomeno quello che cerco di fare io cioè i mezzi di comunicazione i mezzi di comunicazione che sono riduzionisti a go go questo è l'appunto che mi son presa no sono alcuni mezzi di comunicazione una buona maggioranza quelli più rivolti le reti televisive già le radio è diverso poi ci sono i giornali i giornali di un certo tipo che sono di mainstream ma non tutti i giornali sono così e poi ci sono un'infinità sarà che io mi ritrovo sempre bombardata da tutte queste cose come apro il computer ci sono le informazioni di tantissimi luoghi che funzionano da interfaccia tra la ricerca e la comunicazione alla cittadinanza delle questioni ho citato osservatorio artico va bene perché mi serviva quell'esempio ma è una valanga di queste questioni ci sono dei livelli di informazione soprattutto va detto tra le nuove generazioni che sono molto interessanti clima alteriano colore verde sono tutti dei siti che sono nati negli ultimi 4-5 anni che sono dei siti dei blog delle lettere delle informazioni costante in cui quello che si dà è che quell'interfaccia così problematica tra la ricerca scientifica e la fruizione che mi rendo conto tu hai ragione in molti casi è trattata soprattutto a livello di mass media molto con linguaggi vecchi usiamo ancora i linguaggi causa-effetto il determinismo ecco questo in altri casi non avviene questo in altri casi non avviene ed è credo talmente importante tenere conto di questa capacità di come dire di riflessione di riflessione critica e quindi anche di costruzione di cittadinanza che noi abbiamo dei fenomeni molto interessanti tanto più la situazione diciamo ecologica territoriale è difficile sono state denominate certe zone zone di sacrificio dagli epidemiologi perché in base a tutta una serie di eventi di polluzione eccetera le persone stanno male muoiono vengono i cancri ci sono le nascite di morfale quindi interi gruppi ecco in queste zone che sono dei luoghi caldi ma anche di pensiero di curiosità di contrasto con quelle che sono non solo le politiche ma anche le politiche scientifiche di certi modi ecco in questi casi io credo che non si può fare ecco di tutto il buon fascio se poi noi andiamo a vedere i nuovi movimenti ambientalisti del ventunesimo secolo è vero quelli che chiamano i giornaloni no? i giornaloni grande mass media ci fanno vedere le azioni plateali di extinction rebellion ma se noi andiamo a frequentare e a interloquire con free day for futures extinction rebellions e altri ce ne sono molti di questi gruppi di movimenti beh noi vediamo che c'è una finezza di attenzione a quelle che sono gli sviluppi successivi magari non tanto della filosofia della scienza riduzionismo l'ismo eccetera ma agli effetti e quindi anche alla ricerca di chiavi che ci permettono di entrare in un rapporto diverso con la realtà che se ci sarà dato il tempo se ci fosse dato il tempo se le vicende ecosistemiche saranno meno drammatiche di quello che ci aspettiamo ecco probabilmente ci può essere del nuovo in questo senso anche se noi vediamo quello che è successo anche alle COP l'ultima COP che lì ci sono state è stata una battaglia cioè è come un esperimento sotto a cielo aperto abbiamo avuto no? cioè la grande battaglia degli estrazionismi e le forze che si opponevano che venivano proprio da queste realtà che sono realtà però ormai non posso dire attrezzate cognitivamente attrezzate scientificamente anche e quindi e quindi non soltanto diciamo prone a quelli che sono i guaggi sociopolitici non solo riduzionistici ma proprio riduttivi dello spessore in qualche modo no? non so se eh grazie mi sento meglio voglio dire grazie no ma poi queste cose tu le sai Enzo io lo so che tu le sai ma scherziamo la versione pessimistica delle cose grazie non so se c'è ancora qualcuno se non interviene nessuno faccio una domanda io a Elena dunque lei ha giustamente ricordato sottolineato il legame tra l'emergere di figure di pensatori no? come come Cartesio eccetera in coincidenza di un contesto storico in cui emergeva diciamo emergevano le attività tecniche no? per esempio in Francia in Francia nel XVII secolo le scienze idrauliche che erano nate che erano nate in Italia diciamo diventano diventano prevalenti in Francia insomma c'è un legame tra lo sviluppo del del sapere tecnico e delle e delle pratiche tecniche le pratiche la scienza idraulica serviva a controllare i fiumi a fare le bonifiche e a incanalare le acque eccetera e lo sviluppo diciamo di una certa di un certo indirizzo del pensiero scientifico balcone cartesto eccetera Galilei Galilei da noi no? Allora io diciamo un uguale legame questo lo sappiamo tutti quanti si sviluppa diciamo in maniera più più stringente più ravvicinata nel XIX secolo con la rivoluzione industriale con la seconda rivoluzione industriale e come sappiamo Marx parla di sussunzione della scienza all'apparato produttivo capitalistico al sistema di produzione capitalistico allora chiedo a Elena quanto è vera ancora l'affermazione di Marx nel senso che oggi abbiamo tantissimi centri di ricerca tanti privati e finalizzati immediatamente alla produzione di conoscenze sfruttabili sul piano economico produttivo finanziario cioè istituto di genetica eccetera eccetera ma anche diciamo tanti centri di ricerca scientifica pura di ricerca di ricerca di base allora secondo lei quant'è quant'è l'indipendenza di questi centri di ricerca e quindi di questa scienza dal contesto dominante dell'economia capitalistica tra l'altro dominata dall'impostazione neoliberistica beh diciamo questa è una domanda chiave che sempre a un certo punto emerge potrei rispondere con un'unica parola contrattazione e conflitto quindi la scienza va avanti e per le sue capacità intrinseche di metodo di saper per esempio distinguere l'errore dalla corroborazione di una qualsiasi cosa possiamo pensare che possiamo fidarci del fatto che quando ci viene detto che il corrispettivo della terra non sta al centro dell'universo va bene ma gira attorno al sole ci sono tanti corrispettivi oggi di questo possiamo pensare che sì forse è credibile va bene ci si può fidare contemporaneamente il cono di luce con cui si guarda la realtà non è 360 gradi quello che tu dici è esattamente il momento in cui vengono posti certi spinte produttive in una direzione piuttosto che in un'altra e questi determinano la della ricerca significato delle domande avete citato prima Marcello Cini su questo Cini aveva delle posizioni molto limpide proprio perché era stato molto attaccato nelle sue teorie sulla non neutralità della scienza ma in fondo i gravi cadono nello stesso modo in unione sovietica e nel mondo occidentale non è quello il problema il problema è chi pone le domande e come quindi e sono le meta regole delle regole noi abbiamo delle regole per condurre il procedimento scientifico ma non è che sono regole che sono piovute dal cielo o che ci ha dato una qualche divinità sono delle regole per pattuire convenzionalmente e fino a un po' di anni fa si pensava che questo pattuire le regole fosse soltanto tutto interno alle comunità scientifiche così ci diceva Popper così ci dicevano i grandi epistemologi che ho studiato anch'io che abbiamo studiato tutti oggi sappiamo che in questo pattuire in realtà i giocatori sono tanti allora innanzitutto quello che tu dici e cioè le potenze economiche gli stakeholders come vengono chiamati cioè se la Rockefeller Foundation capisce che su un certo settore è significativo spingere e dico la Rockefeller Foundation perché è stata una delle più illuminate nel senso che non andava immediatamente al risultato pratico finanziava le grandi ricerche di fondo magari oggi ci fossero cose di questo genere però se capisce questo è chiaro che finanzierà certe ricerche io ho fatto prima l'esempio del Teoretical Biology Club a proposito del Rockefeller Foundation mi si è associato la Rockefeller Foundation voleva realizzare a Cambridge quello che questi scienziati della left inglese proponevano e cioè degli istituti interdisciplinari in cui si potesse lavorare sull'embriologia sulle morfologie sulle matematiche sulla cristallografia la vecchia Inghilterra disse no poi arriva la guerra e tutto va a pallino però certamente è chiaro quello che tu dici è fondamentale e cioè le forme di produzione economica le forme produttive sono un motore che porta avanti la ricerca perché dicevo contrattazione e conflitto come unica risposta sintetica perché il lavoro di chi fa ricerca è legato a questa come dire accettazione prona come avviene in moltissimi casi oppure questo braccio di ferro come avviene in moltissimi altri casi perché c'è chi ha vantaggio a portare avanti un certo tipo di ricerche e chi no e quindi quando noi vediamo il panorama sempre più possiamo essere d'accordo perlomeno io sono ogni tanto d'accordo con me stessa quindi penso che è così che non vediamo un panorama della scienza ma vediamo un panorama di un grande arcipelago un sistema Venezia l'aveva chiamato Pietro Greco che è fatto di tante realtà scientifiche che hanno in comune delle regole metodologiche che spesso a livello etico non sono neanche spesso rispettate fino in fondo quelle mertoniane ma che a livello metodologico se tu sbagli un esperimento te lo fanno notare gli altri non pubblichi o se pubblichi fai una froda eccetera eccetera quindi in questo senso ci sono delle realtà che sono molto complicate molto anche complesse tenendo conto la differenza tra complicato e complesso che il complicato tu lo apri come un nodo e il complesso quando lo hai aperto non c'è più quindi devi poterci lavorare all'interno questo senz'altro e soprattutto tu hai ragione questo andamento ci sono degli epistemologi estremamente interessanti come John Zeman Shila Yasanov Funtowitz Ravez e vi dicendo dell'ultimi 20-30 anni in cui sostengono che il discorso scientifico non lo si fa solo più all'interno della scienza Zeman dice la scienza è un sistema è come un tavolo a tre gambe c'è la parte che si fa nei laboratori il metodo c'è la parte degli stakeholders e quindi i giochi finanziari le cose le contrattazioni eccetera eccetera c'è la parte della comunicazione lui parla solo di quella ma la comunicazione per come la vedo io è l'anticamera della costruzione di altri stakeholders che sono la cittadinanza scientifica e che siamo tutti noi volendo non intendo dire io magari un po' a metà strada perché sei un epistemologo ma il cittadino comune che ha il come dire il diritto ma a questo punto anche il dovere di essere presente e informato sulle catastrofie ma perlomeno su quelle che hanno un impatto diretto sulle condizioni di vita sugli ambienti per esempio il cambiamento climatico cioè una grandissima quantità di giovani che non sono necessariamente climatologi eccetera hanno ormai una competenza come dicono gli americani una competenza su queste questioni che gli permettere di essere interlocutori e quindi di anche qua insomma creare dei giochi che non sono poi così lineari insomma non è la produzione che ordina la scienza non è un diktat ma questo già Cini lo diceva non è mai un diktat ci sono delle influenze poi influenze epocali non solo non solo di produzione le credenze e poi anche certi impatti cioè non so viene una pandemia le persone reagiscono in tanti modi finisce la pandemia beh qualche cosa questa mareggiata sulla spiaggia l'ha lasciato e quindi bisogna vedere come questo qualche cosa che è rimasto retroagisce sul discorso scientifico anche non so se ho risposto certo no no è dato un quadro molto articolato e convincente diciamo l'immagine dell'arcipelago della Venezia è quello più vero mi pare più rispondente alla realtà dei fatti oltre che più suggestivo sotto il profilo storico estetico tu sai che io ho scritto un libro su Venezia e le acque quindi tu mi seduci con questo esempio va bene allora io Giuseppe Saponaro che ha alzato la mano prego Giuseppe Saponaro e poi Giuseppe Pinuccio il nostro Pinuccio ciao Pino ciao ciao un altro sapientino sto no no intervengo per due motivi il primo è che sono molto emozionato perché con Elena non ci vediamo dai tempi di Villa Piracchiori quindi non so quanti anni sono passati e che adesso ritrovarsi qui insomma mi emoziona volevo dire che sono stato un po' sollecitato non lo sento oddio pronto mi senti noi sentiamo noi sentiamo dai mi senti sì 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 dicevo che sono stato un po' sollecitato dalla prima parte soprattutto quella storica quando hai cominciato a parlare di Cartesio Bacone eccetera e allora dal mio punto di vista vorrei adesso così spostare l'attenzione su un altro filone storico-filosofico che in qualche modo è stato diciamo di rottura con il cuore del razionalismo cartesiano no sia nell'aspetto diciamo canonico sia nell'aspetto pragmatico cioè il versante diciamo puramente teoretico cartesiano è quello pragmatico bagoniano e mi riferisco alla figura di formazione cartesiana ma poi anche di rottura che è Leibniz il quale diciamo per primo nel seicento e poi all'inizio del settecento crea quella scuola di come dire di critica del riduzionismo deterministico la matesis universalis diciamo della matematizzazione quindi di ridurre tutta metodologia in questo senso ma in in rivalda in qualche modo andando anche un po' controcorrente rischiando anche di essere accusato di neo aristotelismo andando anche contro per esempio spinoza eccetera rivalda il concetto del fine della finalità della natura va bene che non ha nulla a che fare con il meccanismo della causa dell'effetto ma mette in gioco il rapporto mezzi fini dove il mezzo non è semplicemente una concatenazione di cause ed effetti in vista di qualche cosa che non è una causa ma è esattamente il fine che precede ogni causa ma mi sto riferendo proprio a quell'idea della finalità che ha una valenza puramente etica allora dopo Leibniz chi si è tutto bloccato questo aspetto è proprio Kant e nella critica del giudizio scusate a me si è bloccato tutto mi sentite eh adesso si dicevo chi divaluta questo aspetto qui è proprio Kant sia sul piano etico ma anche sul piano della biologia perché nella critica del giudizio Kant anticipa tutta quella discussione sul determinismo vitalismo che si svilupperà poi nell'ottocento no? E la cosa interessante è che mettendo Kant l'accento sull'organicismo anticipa anche tutto quel rischio che le posizioni vitalistiche contrapposte al determinismo cioè il rischio cioè che il vitalismo propugnasse un riduzionismo da parte sua nel senso che come il determinismo riduceva tutto alla all'amare se universalis e alla causa dell'effetto il vitalismo rivalutava invece un 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 olismo basato sul concetto di vita va bene ora chi è che secondo me dal punto di vista sia bistemologico ma anche etico politico ha rivalutato questa questo legame tra Leibniz e Kant rispetto come critica al riduzionismo è stato invece un kantiano doc cioè Kassiter per il quale la forma simbolica scienza è soltanto una forma simbolica del nostro della nostra vita spirituale allora per combattere il riduzionismo e quindi i riduzionismi interni a ciascuna scienza beh bisogna rivalutare tutte le altre forme simboliche e a cominciare per esempio dal mito dalle tutte le forme dell'arte la stessa religione la stessa storia come forma simbolica specifica che non è riducibile né alla matematica né alla scienza né al mito ma né all'arte ma che ha una sua autonomia e così via quindi diciamo che per combattere il riduzionismo secondo questa corrente bisogna come dire riflettere sulla repubblica delle forme simboliche le quali hanno pari dignità perciò non sta scritto da nessuna parte da questo punto di vista che siccome la scienza dominante è quella riduzionistica e quindi la tecnica dominante è quella che si allea o si subordina o si sovraordina diciamo al riduzionismo scientifico a dettare la linea di tutte le altre forme simboliche perché in questo caso noi andiamo in una patologia delle forme simboliche che è quello diciamo a cui oggi assistiamo per cui tutte le altre devono essere come dire subordinate a questo modello allora la questione più che scientifica è etico-politica è morale e qui torniamo esattamente al centro della filosofia kantiana ecco questo è il punto di vista mio molto 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 ristretto però come dire potrebbe andare d'accordo col tuo è molto più sapiente insomma da questo punto di vista allora non è solo il tuo punto di vista diciamo che in questo momento tu stai in qualche modo convogliando una grandissima vicenda storico-filosofica che è la storia dell'Occidente cioè se noi mettiamo insieme Leibniz Kant Cassirer è chiaro che abbiamo una foto di famiglia straordinaria che è quella che ci ha formato in qualche modo nelle diversità nel fatto che poi Leibniz era una una visione teleologica Kant il vivente era attraversato anche lì da una visione teleologica per Cassirer la scienza era una forma simbolica allora dove questo quadro che per certi versi è straordinario cioè io diciamo discendo anch'io da questa cultura no? in qualche modo lo sappiamo dove questa armonia potremmo dire viene in qualche modo inclinata e quando si comincia a pensare che la scienza non è soltanto una forma simbolica come le altre non è soltanto un'armonia per capire come gli organismi o le vicende sono finalizzate ma deve essere interrogata anche con una chiave storica quindi non si separa la storia dalla scienza e soprattutto questo ordine e questa armonia sono tutti da dimostrare Charles Darwin con l'origine delle specie e con la sua teoria che ha fatto scalpore e continua a fare quelle che sono le statistiche negli Stati Uniti ma in molte parti del mondo di non accettazione del discorso evolutivo non è che uno dice ma perché non accettano una teoria che funziona bene su tante cose non la si accetta non per dei principi teorici tutti interni ma per il fatto che introduce in questo quadro che il nostro quadro filosofico del nostro occidente dell'armonia introduce la discontinuità del caso allora né Leibniz né Kant né tantomeno Cassirer né i più importanti filosofi che noi abbiamo amato hanno mai fatto il conto con questo perché il caso era un'anomalia ma anche Popper anche Popper dice un'anomalia non è Kuhn è un'anomalia si può passare ad altro ma invece il caso come irruzione la la semplice constatazione che tutti noi qua sulla terra che stiamo oggi qua siamo lo 0,1% delle specie comparse sul pianeta a partire da 3,5 milioni di anni fa e le altre dove sono andate sono istinte cioè dov'è il senso di tutto questo dov'è l'armonia dov'è la finalità della natura ci sono state cinque mega estinzioni accompagnate da tante piccole estinzioni intermedie adesso noi sappiamo ci dicono Eldridge e molti altri autori con pezze d'appoggio e documentazione che siamo dentro la sesta estinzione per quantità di specie che spariscono e così via per sistemi che cambiano allora questo è un boccone che non si rigerisce facilmente e che noi filosofi in particolar modo appunto con quello che abbiamo alle spalle abbiamo difficoltà a cogliere perché perché rompe anche con questa dimensione che tutto sommato è olimpica ed è armonica del fatto di dire la scienza è una forma simbolica sono d'accordo ed è una forma simbolica al pari del mito dell'arte e della religione benissimo possiamo benissimo farlo questo discorso di Massima poi però se creiamo un attrito con la realtà la religione mi può dare delle come dire una una fiducia una sua autoconsistenza a prescindere l'arte grazie a Dio pure ha un suo mondo che a prescindere è il mito lo stesso nel caso della scienza noi abbiamo questa prizione che poi si va a vedere e si scopre che per esempio se è vero perché questo è il punto deve essere vero se no entriamo in un loop che è veramente simbolico quanto il mito ma se invece c'è uno scarto ecco non c'è più questa armonia prestabilita posso dire una cosa posso aggiungere beh giustissimo però diciamo che da un punto di vista della scienza allora Leibniz avrebbe detto cos'è il caso beh noi chiamiamo caso un po' come quando diciamo questo è un miracolo quando non riusciamo a trovare la ragione sufficiente che l'ha determinato e quindi questo cos'è determina determina la coscienza della nostra ignoranza allora se noi siamo coscienti della nostra ignoranza dobbiamo essere coscienti anche del nostro limite quindi la paura di essere divorati in qualche cosa di cui noi non abbiamo conoscenza non ci deve sovrastare ecco allora che c'è questo granello di ottimismo che viene esattamente da quello che Leibniz diceva se tutto sommato siamo nel migliore dei mondi possibili no? Ora qual è il risvolto diciamo simbolico di questo ragionamento? È che non dobbiamo perdere la fiducia e la speranza diciamo perché stiamo facendo questa discussione questa lezione? perché tutto sommato poi le cose che avverranno dipenderanno sempre dalle nostre azioni e le nostre azioni sono determinate le nostre conoscenze scientifiche diceva Leibniz per una parte infinitesima perché tutto il resto viene determinato da emozioni dalla stessa nostra ignoranza dalle nostre credenze dalle nostre relazioni sociali cioè da tutto dal nostro inconscio perché la Mona ne diceva Leibniz non è altro che il riflesso dell'universo purtroppo per il nostro limite noi ne illuminiamo soltanto una infima parte però tutto il resto lo possediamo in qualche modo allora il lavoro della storia sarebbe esattamente lavorare per prendere coscienza di questo nostro limite è l'unica cosa che ci rimane da dire credo no ma giusto perché poi se no entriamo in una specie di appassionante dialogo però forse non abbiamo i tempi il problema non è la speranza e la fiducia che con una visione storico processuale che lega insieme la nostra storia umana e la storia del bios perché questo è il punto che a me preme si va a perdere la fiducia e la speranza per lo meno filosoficamente ma anche esistenzialmente per me è immanente qua la differenza con Leibniz e con i filosofi non ricavo speranza da una proiezione nel futuro ricavo fiducia nel in quello che va accadendo che faccio ma anche non solo in quello che faccio ma in quello che mi accade cioè non c'è solo un'agenda c'è anche un subenda no? cioè noi abbiamo le agende durante il covid noi avevamo le agende ma le agende venivano disattese quindi c'era un subire e quindi questi due momenti che spesso sono stati delegati a due parti dell'umanità gli uomini agivano le donne subivano no sono qualche cosa che è intrinseco e in più il caso in parte ignoranza il caso ha diverse facce ma questo sarebbe un bellissimo altro seminario e non lo possiamo esaurire qui il caso ha molte facce c'è un caso legato alla non conoscenza c'è un caso che è quello di cui parla Lorenz nel teorema dei tre corpi che è legato allo scorrere del tempo in un sistema che è fatto di tre corpi che hanno una partenza iniziale e che poi ci sono minime deviazioni e possono avere degli effetti a termine estremamente selvaggiamente diversi diceva Cini selvaggiamente diversi e questo è un caso che è un caso non legato alla nostra limitatezza della conoscenza non c'è un diavoletto di Maxwell che è quello che tutti abbiamo sempre sperato che sta lì in posizione elevata oppure come diceva Edelman l'occhio di Dio no? che avendo tutte le reti presenti può saper prevedere quello che è l'accadimento a un tempo da N1 a NX dopo non funziona più così la storia anzi ti potrei dire Pino che questo è il trionfo della storia questo è il trionfo della storia anche nel Bios è il trionfo dell'elemento temporale che non è prevedibile e non solo non è prevedibile perché non abbiamo abbastanza strumenti da poterlo prevedere ma che elimina direttamente il fatto di una proiezione di prevedibilità entro certi limiti per carità poi a livello statistico a grandi linee possiamo dobbiamo prevedere qualche cosa questo sì allora questo ascolta scusate c'è anche Alessandro Scastellati che ha alzato la mano Alessandro Scastella sì no io volevo soltanto tornare un attimo sulla questione sollevata da da Piero prima e cioè allora l'IPCC ci dice che abbiamo 40 anni se non facciamo nulla noi siamo dentro un sistema diciamo che appunto è capitalistico e che sostanzialmente come dire mette sicuramente a frutto e penso a questioni come la brevettazione della vita umana anche o di tutto ormai su cui si fa profitto intelligenza artificiale che ormai è una realtà quasi una realtà e appunto l'IPCC ci dice appunto prima si diceva la sesta estinzione di massa la distruzione della biodiversità e però viviamo ancora in un'epoca in cui si dice sostanzialmente c'è una fede pazzesca appunto nelle soluzioni scientifiche e tecnologiche il capitalismo verde è tutta una costruzione sul fatto che allora adesso si può gestire diciamo il mutamento la transizione senza considerare che per esempio per fare le auto elettriche bisogna comunque estrarre da qualche parte il litio e tutto quello che viene e quindi il meccanismo è in realtà sempre dentro lo stesso paradigma quindi volevo un po' capire perché ho la sensazione che diciamo il riduzionismo scientifico sia fortissimo ancora più che poi magari anche in una visione di complessità però ecco credo che questa fede quello che ci raccontano è che si possono trovare tranquillamente soluzioni tecnologiche ecco e quindi questi 40 anni in qualche misura che è un tempo assolutamente limitatissimo rispetto alla storia dell'umanità della storia della terra dovremmo trovare delle soluzioni adeguate per cercare di evitare la nostra estinzione grazie sono d'accordo che bisogna trovare le soluzioni per evitare l'estinzione su questo siamo tutti d'accordo c'è chi la cerca su Marte però ah certo certamente come no come no allora una cosa che diciamo giusto per mi sembra tutte le le osservazioni ci ritrovano tutti abbastanza d'accordo l'esempio che fa la costruzione della vita umana ingegneria genetica intelligenza artificiale tutte queste discipline hanno molti tratti in comune e sono dei tratti in comune che alcuni studiosi recentissimi hanno individuato come collegati a delle caratteristiche precise che sono ottimizzare sostituire e sconfiggere questo è il titolo di la seconda parte di un libro e cioè ottimizzare sostituire e sconfiggere i proiettili d'argento dell'innovazione di Silvio Funtovix e Alice Benessia fa parte di un libro che si chiama l'innovazione tra utopia e storia di Sheila Yasano che io ho usato è molto consumato questo libretto perché l'ho usato diversi anni a lezione e certamente conferma molte di questa visione di trend che sta facendo io rispondo però con un'altra questione siccome la prima cosa che è stata citata è l'IPCC l'IPCC da chi è fatto cioè chi è che parla dentro l'IPCC cioè non sono gli scienziati diciamo ecco guarda un po' allora questo mi riporta a quello che ho detto credo a metà della lezione e cioè che ci sono diverse possibilità di leggere non come visione del mondo ma come utensile tutte quelle che sono i dispositivi di certe discipline per saperne di più sul mondo la metto ancora in un altro modo noi siamo non dico noi qua ma perlomeno due o tre generazioni siamo i primi che sanno dove facendo certe cose si va a parare e in linea di massima dove facendo altre cose si potrebbe andare a parare ci sono ormai delle ricerche bellissime se voi andate su un certo sito di Antonello Pasini che si chiama Chioto Fisso ci sono prospezioni costanti che riguardano il lanzamento delle temperature e le possibilità di scelte queste sono operazioni che vengono fatti dagli scienziati aggiungo che in campo scientifico noi continuiamo spesso per una sorta di nostra inerzialità a riferirci non soltanto a quelli che sono i settori che più vengono sponsorizzati non c'è giornale televisione per rifare il discorso che faceva prima Enzo Scandur dei mezzi di comunicazione di massa che sono anche un po' trivial in qualche modo che non parli di ingegneria genetica intelligenza artificiale eccetera però noi sappiamo benissimo se andiamo a guardare con un pochettino più di finezza che in questo momento c'è una crescita non solo conoscitiva in genere ma anche proprio disciplinare di discipline che hanno a che fare con i temi che ci interessano la climatologia pochi giorni fa è uscito un articolo di un italiano negazionista uno anche importante che è stato un fisico e meteorologo va bene che non crede al fatto che il cambiamento climatico sia dovuto all'impatto antropico ma lo vede come una riproposizione di cicli geofisici e astrofisici ecco questo soggetto è stato un fisico e un meteorologo oggi esistono i climatologi anche questo richiederebbe un'intera lezione la differenza tra meteorologia e climatologia è proprio quella tra una disciplina che fa solo misurazioni quindi in questo senso riduzionista stretta è una disciplina che incrocia diversi vettori di ricerca modulandosi sulla freccia del tempo e quindi andando a vedere appunto i famosi carotaggi dell'Artico quindi ci sono discipline nuove la climatologia la glaciologia l'oceanologia l'epidemiologia ambientale un tempo già l'epidemiologia era una disciplina giovane però si lavorava sull'epidemiologia genica sulle precondizioni l'ereditarietà eccetera sui grandi numeri adesso le correlazioni vengono fatte con le situazioni ambientali e quindi la ricerca la costruzione di dati su queste notevolissime l'epigenetica noi siamo a guardare quelle che sono le scoperte le ricerche di miglioramento il codice genetico ingegneria quello che spesso non viene detto in senso lato è che c'è tutta una parte di ricerca molto avanzata che riguarda i cambiamenti che non sono i cambiamenti del codice genetico ma i cambiamenti che vengono apportati in base alle condizioni del microambiente cellulare e questo significa che noi da queste condizioni guardiamo all'ambiente un po' più grande che quello fisico e poi è quello più grande ancora quindi il discorso ambientale entra fino a livello genico va bene non solo la simbiontologia noi non siamo un individuo ma siamo fatti di assemblaggi di tante specie va bene di tante specie batteriche virali tutto questo è una espansione delle conoscenze che può essere più o meno discutibile che però certamente non non è non può essere incanalata soltanto sulla sul fatto che un sistema quello che dicevamo prima insomma non c'è un sistema con le sue maglie che chiude per la realtà è molto più ricca e potente di quello che appunto il capitalismo e la sua produzione e i suoi interessi e i suoi profitti finanziari senza dimenticare che poi la produzione se anche il sistema non fosse stato capitalistico noi sappiamo benissimo che la produzione non è l'economia la produzione è qualcosa che è molto difficile da fermare da controllare perché per controllarla e su questo adesso anche a livello scientifico ci sono teorie si tratta di frenare la produzione che non è solo un prodotto di un'economia capitalistica ma che è una spinta diciamo umana in qualche modo che va diciamo controllata con un livello di consapevolezza maggiore accresciuto in base a quello che anche scientificamente sappiamo va bene Elena non vogliamo utilizzare troppo e sfruttare troppo la tua straordinaria generosità volevo dire per concludere se non c'è nessun altro che vuole intervenire non c'è nessun altro credo volevo dire che ascoltando te Pinuccio davvero mi sembrava di sentire un dialogo tra giganti perché diciamo avete portato il livello della discussione diciamo molto molto in alto in maniera affascinante io conosco anche Pinuccio conosco le sue tematiche lui mi fa mi ha fatto scoprire anche se un po' lo conoscevo Cassir eccetera io sono assolutamente d'accordo con te che hai ricordato che hai ricordato Darwin che hai ricordato l'irruzione del caso il caso che ci ricorda una cosa fondamentale cioè la fortuità della della nascita del vivente sulla terra e di noi stessi della specie umana avere avere presente questo secondo me è fondamentale per togliere ogni come dire fiducia teleologica nelle nelle magnifiche sorti e progressive oggi diciamo che c'è il clima più necessario per avere all'interno delle scienze e comunque della visione generale della vita l'elemento della casualità io e finisco e davvero poi ti lasciamo andare io ho scoperto questo elemento anche in un pensatore lontanissimo da noi oggi per alcuni aspetti ma vicinissimo ancora attualissimo che è il nostro Niccolò Machiavelli Machiavelli parlava di fortuna è il caso viene da forse dal latino cioè che etimologicamente viene da lì è il caso cioè il caso può terminare il corso di una vicenda storica se una vicenda storica se l'Italia diciamo nel 1494 quando è arrivato Carlo VIII e l'ha conquistata e ha dato il via libera diciamo alla allo spadroneggiamento delle potenze europee sul nostro territorio fosse andata in diverso modo per diverse circostanze la storia sarebbe cambiata ecco per dire questo secondo me il caso è poco che capisco io diciamo all'interno della scienza un elemento che coglie che toglie anche diciamo all'intelligenza umana al dominio dell'umano sul reale quella come dire assolutezza no che non corrisponde alla realtà perché l'uomo l'uomo è diciamo una piccola componente del mondo del mondo vivente Elena sei stata veramente straordinaria ti ringrazio ti manderemo ti manderemo la registrazione della tua lezione la metteremo nel sito ma la troviamo in trasforma la troviamo direttamente ma poi la facciamo girare io lo faccio girare 8800 passa diciamo seguaci ascoltatori della scuola approfitto per annunciare la prossima lezione che sarà di Guido Ortona e che si intitola rendere efficiente la pubblica amministrazione dando lavoro ai giovani laureati e si terrà il 7 marzo il 7 marzo alle ore 18 come al solito grazie grazie ancora Elena e buona serata da tutti noi grazie a voi tutti grazie tantissimo ciao grazie ciao Roberto buona serata anche a voi grazie a voi